Gina Lollo Brigida ha quasi 90 anni ma ribadisce di essere completamente in sé nonostante i dubbi dell'unico figlio Andrea Milko Skowicz che sospetta che la madre non sia più in grado di gestire le ricchezze di famiglia. Colpa, come scrive il messaggero, di un'asta alla Sotheby's di Ginevra durante la quale l'attrice ha venduto alcuni gioielli ricavandone milioni di euro. Considerando che appena qualche mese fa la Lollo Brigida ha scoperto di essere stata raggirata dal suo compagno che l'ha sposata per procura sua insaputa per l'eredità, il figlio Andrea ha richiesto l'intervento di un giudice tutelare allo scopo solo di avere quantomeno la possibilità di controllare la madre. Gina tuttavia ha già risposto al figlio a mezzo stampa dichiarando sto in giro per il mondo di continuo vado avanti e indietro con Monte Carlo sono perfettamente in me.